Che fine hai fatto tutta la notte? Mi ha chiamato la Befana. Volevo un aiuto per i doni dei bambini. Si è rotta la scopa. E poiché il suo sacco era piccolo, ho riempito il mio pancione. Ma con quante cose mi voglio sapere? Una barretta? Più di una. Muniti di cioccolata. Non so se si rompono un po' di cioccolato. Finita. Mi ha finito. Allora avrà davvero un pancione gigante. Eccolo è grande, è un metro. Dalla coda e la testa. Poi io lasco, guarda che cosa fa. Incredibile. Inziona la mia invenzione. Beh, c'è il vuoto. Sembra una macchinetta di quello che mi metti le monetinette da un giocattolo. Grazie. E la cosa è di ridare il muro. E invenzione. Non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace. 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 Non mi piace.